and we had to rebuild everything which is white now because they had so many formats for it they didn't want to shoot for every format in a different kind of picture and so they said ok we can do it in post ok questa è la foto di partenza quella reale scattata e siccome lo appunto avevano talmente tanti formati diversi per fare la cosa non volevano scattare una foto per ognuno dei formati e quindi quello che hanno dovuto fare è stato fondamentalmente ricostruire tutte le parti che avete visto che erano bianche in modo radattato a questi vari formati this was the snow shot and it started here it was part of the background we first started iniziamo con la reazione grazie 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 grazie